La collaborazione con i medici era molto importante per Bruno Gröning, ma poiché rifiutava di sfruttare commercialmente il proprio operare, purtroppo non si giunse mai ad una collaborazione con loro. Oggi invece migliaia di professionisti della medicina e della salute provenienti da vari settori svolgono volontariato nel nostro gruppo medico-scientifico specializzato sul tema guarigione per via spirituale attraverso l'insegnamento di Bruno Gröning e fra questi anche centinaia di medici. Buongiorno, il mio nome è Dieter Häusler, rappresento il Circolo degli Amici di Bruno Gröning, una delle più grandi organizzazioni a livello mondiale che si occupa di guarigione per via spirituale. Quest'anno abbiamo il nostro quarantesimo anniversario della Costituzione. Adesso voglio mettere in evidenza che, seguendo l'esempio di Bruno Gröning nel Circolo degli Amici, non vengono fatte né diagnosi, né terapie e nemmeno trattamenti. Qui non viene consigliato né prescritto alcun medicinale. Al contrario, in linea di principio consigliamo agli amici di continuare a consultare il proprio medico e di sottoporsi alle terapie da lui prescritte. Non facciamo né faremo mai promesse di guarigione, poiché ogni guarigione, secondo la dichiarazione di Bruno Gröning, è un atto di grazia da parte di Dio. Numerosi scienziati vogliono spiegare l'avvenimento di una guarigione, ognuno dal proprio punto di vista, che sia matematico, fisico oppure medico. Comunque la maggior parte di loro, in fin dei conti, si trova d'accordo su un punto, e cioè che non riescono a spiegare in alcun modo queste meravigliose guarigioni. E a questo punto entra in gioco il concetto di Dio. Ciò che viviamo qui non si può spiegare in formule. Questo è proprio un livello completamente diverso, che prescinde da ogni tentativo di spiegazione di carattere scientifico. Sì, vengono tantissime persone in cerca di guarigione che hanno fatto di tutto, che sono già passati attraverso tutti gli stadi della medicina e dei metodi alternativi. Non sono comunque guariti e continuano la loro ricerca. A loro possiamo dire, qui c'è ancora qualcosa che potete fare. Ed è per me una grande gioia, anche nel contesto di conferenze, vedere queste persone guarire a volte spontaneamente. Oppure quando tempo dopo, dopo un anno o un paio di settimane, quello e quell'altro sono guariti dopo la conferenza, perché l'hanno messo in pratica. Sì, penso che la domanda del perché io faccio questo sia molto importante. Un tempo non avrei mai creduto che avrei fatto una cosa del genere, ma nell'ambito della mia professione di medico ho notato, oppure ho dovuto sperimentare, che nel nostro lavoro siamo spesso inermi davanti alla sofferenza, perché vengono dei pazienti che chiedono insistemente cosa posso fare, oppure può fare ancora qualcosa per me? E spesso abbiamo le mani legate. Per questo sono così felice, perché abbiamo questa possibilità di offrire all'umanità un cammino che mostra come possano ottenere la guarigione da soli. Con questa conoscenza e queste cognizioni voglio aiutare a diffonderlo, perché al punto in cui ci troviamo ora non può essere che la medicina resti ferma solo alla scienza. perché mi stimola il fatto che ci sia qualcos'altro oltre a quello che abbiamo studiato all'università e sapere che su questo cammino l'uomo può essere aiutato mi riempie di gioia e di entusiasmo. Molte persone in cerca d'aiuto hanno fatto l'esperienza di sentirsi oppressi davanti a una diagnosi inguaribile e come paura, spavento e preoccupazione hanno scatenato in loro disturbi percepibili nel corpo. Qui nel circolo degli amici di Bruno Gröning i cercatori di aiuto necessitano di essere riedificati nell'anima. È assolutamente impressionante la quantità delle tante testimonianze degli amici guariti. Ogni singola testimonianza è una pietra preziosa e per ogni cercatore d'aiuto è un meraviglioso sostegno nel poter credere alla propria guarigione. Già all'epoca Bruno Gröning respingeva su gestione ed ipnosi. Per tale motivo anche noi del circolo degli amici non trattiamo queste tematiche. I cercatori d'aiuto dovrebbero piuttosto sviluppare la fiducia anche nelle cure mediche ancora necessarie. Prima che dal punto di vista medico si possa davvero parlare di una guarigione, le testimonianze vengono verificate molto attentamente. Non potrei assolutamente prendermi la responsabilità di un approccio superficiale su un tema tanto importante e pieno di significato. Ci sentiamo in dovere con le persone di essere seri e responsabili. Avviene che un guarito o un amico che ha ricevuto un aiuto lo racconta nella comunità. Le comunità si incontrano ogni tre settimane e lì questa testimonianza viene annotata subito dal responsabile delle testimonianze o da un aiutante sotto forma di un rapporto immediato. In pratica l'accaduto viene registrato subito con i particolari in maniera sintetica. E questo rapporto viene completato poi entro l'arco di una forse due settimane da un dialogo personale con il guarito, forse simile a una testimonianza che viene fatta da un perito, come era prima quando l'amico in questione è giunto al circolo degli amici e che cosa è accaduto durante il periodo della guarigione. Tutto viene messo per iscritto. Poi questo rapporto arriva in un gruppo di lavoro di cui fa parte un medico. Lì viene esaminato, cioè si stabilisce se quello che è stato registrato è valido. Ha senso ciò che è scritto qui? È qualcosa che vale davvero la pena trascrivere? Oppure è veramente accaduto una guarigione? Prima si esamina in questo senso. Si dà un'occhiata alla diagnosi e ai referti terapeutici rilevanti dei medici o della clinica che ha trattato la persona in questione prima che subentrasse la guarigione. Quando però il racconto è straordinario viene documentato e anche commentato dal medico. Questo medico poi lo porta a un'istanza di verifica superiore per così dire. È un circolo di lavoro di soli medici di varie specializzazioni. Ci sono anche veterinari e psichiatri che sottopongono. la testimonianza ha un severo esame finale. Osservano ancora una volta con la loro formazione specialistica se si tratti davvero di una guarigione per via spirituale che non può essere spiegata altrimenti. Si fa visitare di nuovo dal medico che constata un miglioramento. Le articolazioni non sono più gonfie, l'assenza del dolore continua e può essere messa in relazione con l'introduzione all'insegnamento di Bruno Gröning. I referti corrispondono? I referti sono meravigliosi. Tutto è proprio come indicato, verificato con tutti i referti di laboratorio prima e dopo. Solo allora viene autorizzato e classificato. Allora un rapporto così si può inviare in Germania per essere inserito in archivio. Per questo sono molto grato a tutte le amiche e a tutti gli amici del gruppo medico scientifico specializzato che si dedicano in maniera così scrupolosa a questo compito. Così aiutano attraverso queste testimonianze verificate anche altri cercatori d'aiuto a credere nella propria guarigione. Se lui è stato aiutato, se c'è stato un miglioramento, perché non dovrebbe succedere anche a me? Di tutto cuore vi auguro felicità, soddisfazione e soprattutto la completa salute. Vostro Dieter Häusler. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.